Passato il primo weekend in giallo, con folle in città e sulle spiagge, mentre l'epidemia appare stabile su numeri ancora alti, ci si avvia ad un'altra scadenza importante, la fine del divieto di spostamento tra regioni, anche gialle, il 15 febbraio, mentre l'ultimo DPCM, firmato al premier uscente Giuseppe Conte, scadrà il 5 marzo. Bisognerà vedere cosa deciderà il nuovo esecutivo guidato a Draghi, che secondo alcune previsioni potrebbe giurare prima di venerdì, proprio nel giorno del monitoraggio settimanale della cabina in regia e delle eventuali ordinanze del Ministro della Salute. Sarà il nuovo Governo a fare una valutazione sulla base del quadro epidemiologico sulla mobilità tra le regioni, ha detto giorni fa il Ministro uscente degli affari regionali, Francesco Boccia, nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali misure limitative necessitano di un apposito decreto. La fine del divieto di spostamento tra regioni viene invocata, tra gli altri, dai gestori di impianti sciistici, la cui riapertura, ma solo nelle zone gialle, è stata già avallata al Comitato Tecnico Scientifico e prevista proprio per il 15 febbraio. Ma sono altre le sfide che attendono l'ex numero uno della Banca Centrale Europea nel suo ruolo di Presidente del Consiglio. La minaccia costituita dalle mutazioni, anche quella sudafricana e quella brasiliana, si intreccia alla campagna vaccinale, che ha accumulato circa tre settimane di ritardo a causa dei pesanti tagli delle aziende alle forniture di dosi. Il siro di AstraZeneca è arrivato invece con due giorni di anticipo e le 250.000 fiale del primo incarico, saranno somministrate da martedì agli under 55 in buona salute, a partire da insegnanti e membri delle forze dell'ordine. Contestualmente si procederà a completare la vaccinazione di sanitari e ospiti dell'RSA e si procederà con quella degli ultraottantenni. Queste ultime categorie hanno avuto destinati vaccini Pfizer e Moderna, per un totale di oltre 2,5 milioni di dosi somministrate finora e oltre 1,1 milione di italiani che hanno ricevuto anche il richiamo e sono quindi davvero vaccinati. L'obiettivo è immunizzare 4 milioni e mezzo di persone entro fine aprile. A marzo si prevede che l'Agenzia Europea del Farmaco dia via libera al vaccino della statunitense Johnson & Johnson, monodose, quindi più facile da conservare e da somministrare. L'Italia ne aveva opzionati inizialmente decine di milioni di dosi, ma viste le brutte sorprese delle ultime settimane da parte di altre aziende, sembra ormai chiaro che la vera campagna di vaccinazione di massa difficilmente inizierà prima di marzo. Completare la campagna vaccinale è tra gli obiettivi indicati da Draghi nel suo, finora unico e breve, discorso al Quirinale. Grazie.